Ciao ragazzi, oggi discuteremo un po' sul sviluppo di sviluppo di sviluppo per la nostra macchina. Vi vediamo in un po' seconda! Un'importante parte del nostro progetto è il sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo. Il nostro sviluppo è una portazione di GRBL basata su LibOpen CM3. Abbiamo portato la versione GRBL 0.9J e tutti i codi di sviluppo sono nel diritto di firmware del nostro ripositorio. Vediamo! Ogni volta che facciamo un cambiamento al codice di sviluppo è salvato in questo ripositorio. Un script automatico lo construisce e il binario generato è salvato nella seczione di download. Se decidiamo di mantenere questi artefatti generati, lo troverete in questa seczione. Inoltre, lo rimuoveremo. Ma quali sono le differenze tra i binari di firmware? Per capire questo abbiamo scritto un documento che non è la riluppo di firmware. La prima riluppo di sviluppo di firmware era la versione 38. Probabilmente la riluppo che molti di voi ha usato nella tua macchina. Ma, dopo la riluppo di sviluppo 38, molte cose hanno cambiato. Per esempio, quando abbiamo sviluppato Caterpillar, abbiamo scelto che il output PWM non era disabito corretto durante i commenti di M5 G-code. E era pericoloso guidare un lacerato. Quindi, la versione 39 è nata per cercare questo problema. Parlando di sviluppo di sviluppo, ci sono alcuni aspetti che sono spesso negliati. Anche se la funzionalità è considerata come l'unico importante, la organizzazione struttura, la flexibilità e la modularità sono un concetto per mantenere in mente durante il sviluppo. Con la organizzazione struttura, abbiamo cercato di migliorarla, spedendo il codice hardware-elite di sviluppo dall'altro. Questo ha alcuni avvantaggi. Prima di tutto, questo rende la portazione del stesso codice a diversi microcontrolli più facile. Durante la riluppo di sviluppo di sviluppo, abbiamo fatto l'efforto di farlo così modulare possibile. L'efforto di sviluppo di sviluppo di sviluppo permette di raggiungere alcuni target. Compile il codice in diversi ambienti, cambiando solo un file file e dà la possibilità di costruire il codice per diversi hardware, come diversi eskdriversi, struttura cartesiana e microcontrolli. Il risultato di questo sviluppo è stato il binario 0.9.57 in cui potete vedere che il nome del file riflette il cambiamento della struttura di firmware. Nella ultima versione, abbiamo anche introdotto alcune funzionalità funzionali, come l'EarthBit status LED e un riluppo più rapido dei impostori di GRBL e dei parametri. La versione 0.9.58 risulta un piccolo bug della versione precedente. I primi due numeri della versione rappresentano la versione GRBL da dove il firmware ha stato portato. Abbiamo introdotto questa versione per marcare chiaramente il momento in cui avviciniamo alla portata della versione GRBL 1.1.1. Abbiamo introdotto di passare a questa versione GRBL in due riluppo. L'ultima riluppo 0.9 avvicinerebbe un'opera di debug che speriamo che trovi abbastanza utile durante le fasi di setup della macchina. Siamo lavorando sul portata GRBL 1.1.1 Stiamo facendo molti test per rilassare una versione stabile. Spero così. Quando questa nuova versione sarà rilassata, vi chiederemo di testarla e daremo il vostro feedback per rilassare la fase di debug. Questo è tutto per oggi, ma restate attenti perché vi racconteremo un piccolo progetto che spero vi troverà utile. Scusate, sospettatevi al nostro canale, clicca la notificazione e ci vediamo e aver divertito! Ciao!!! Ciao! 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 Ciao!